Sono Vincenzo Alfieri e questa è la mia prima volta. Batman di Tim Burton, avevo 5 anni, mi ha portato mio padre, non avevo mai visto neanche la televisione, giocavo e basta, e mio padre era rimasto da solo, mia mamma non c'era, mi fa... Che ti fa a fare la mamma quando sei da solo? Non lo so. Siamo andati al cinema? No, andiamo al cinema. Io mi ricordo perfettamente questa cosa di queste porte d'ottone che si aprono, questo lungo corridoio scuro, si abbassano le luci, esce il logo di Batman e io in quel momento è scattato un click vedere Jack Nicholson e faceva il Joker. Sono uscito da là e ho fatto, papà da grande farò l'attore. La prima volta che ho pensato di fare il regista è quando ho visto, credo, Shining. In realtà io da quando sono piccolo scrivo, disegno, le prime telecamere usavo i miei giocattoli e riprendevo scene di inseguimenti di macchine tra giocattoli, quindi forse è un po' nato tutto insieme. Da Raffaele Verzillo, durante Incantesimo avevo 21 anni e mi disse Vincenzo, permettimi di dirti una cosa, non c'entrava con me, stavamo parlando di cinema, cioè ricordati che tanto siamo veramente tutti delle merde, quindi l'unica cosa che tu puoi fare è dedicarti con amore e passione a quello che fai e non stai salvando delle vite, quindi divertiti. E siccome io ero un ragazzo che si divertiva molto all'epoca sul set, e lui mi vede così, mi disse, tu sei un puro, si vede, ti voglio bene, continua così e rimani così. Due anni e mezzo fa, perché questo film, tra scrittura e eccetera, ho avuto due anni e mezzo di lavorazione, Renato Sannio, cosceneggiatore, e in realtà è un aneddoto molto carino, io ho passato una notte intera a cercare una storia vera, volevo raccontare una storia vera italiana e volevo parlare di crimine, però è fatto da persone normali, non trovavo niente. La mattina dopo mi chiamo Renato Sannio e mi dice come va, sto cercando una storia vera, ma dai, lo sai che io ho letto l'articolo del giornale che parla degli uomini d'oro, gli uomini d'oro, che titolo? E dice, sì, se ne facessero un film di questo articolo partirebbe come i soliti ignoti e finirebbe come le alieni di Tarantino. In quel momento Dio è sceso su di me e ha detto fai questo film. Lullaby de De Cure. Mi ricorda la mia infanzia, che non è stata proprio facilissima, e quando penso ai De Cure penso solo ai momenti miei riservati, piccoli, ma in cui però ero molto felice e molto me stesso.